Busti, tutori e protesi di arto personalizzati, ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona lentamente il nostro territorio, il tempo è in via di miglioramento. Vediamo il dettaglio di domenica 5 novembre. Sul Veneto prevalenza nelle prime ore di copertura nuvolosa e non è esclusa anche qualche residuo e debole precipitazione sparsa. A seguire sono attese ampie, schiarite e soleggiate, come ci mostra la grafica, con cielo pressoché sereno. Le temperature saranno in aumento, minime sui 2-7 gradi, massime comprese tra 15 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà nuvoloso qui, con piogge moderate ed abbondanti. Sulla costa, possibili mareggiate e acqua alta. Dal pomeriggio poi deciso miglioramento con spazi di sereno. Temperature minime tra 7 e 13 gradi, massime sui 16-19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un esaurimento delle precipitazioni già in mattinata. Poi sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Entra nel mondo l'olato. Da oltre 40 anni, un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.